buonasera ragazzi io sono mister hobby c'è anche air pirata e ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video sono le 8 di sera di domenica alle 8 di sera a bel tempo si spera domani andiamo al mare visto che state e niente siamo con le nostre auto rc mica è vietato girare con le auto rc no se non c'hai buona assicurazione in mezzo alle campagne di santa giusta guardate quanta terra aperta per giocare con le auto rc ma mica ci sta qualche cartello che sta scritto vietato giocare con le auto rc ci stava qualche imbecile l'aveva messo ragazzi le nostre auto telecomandate o meglio radiocomandate perché telecomandate dovrebbe avere il filo il telecomando ma tra comando non c'è nessun filo non mi tamponare con il red cat che io c'ho comunque il trx 4 ma che bella scena sono andato in un luogo in un luogo che non posso andare no no torni indire perché non posso andare la sta senza recendo questo è a pelaggio multiplo vediamoci c'è qualche pietra che possiamo scalerizzare ma ci stanno delle ormene che è la panterina sono le orme della pantera guarda ma sono piccole sarà il figlio della pantera un gatto persiano tambonamendo ragazzi a voi vi piacciono le nostre scaler a presto a presto a presto tanti confronti a presto un nuovo video da radio hobby ragazzi si è fatto buio ma noi siamo qua presso l'agriturismo posta del principe e ancora non ci scarichiamo la voglia rc quindi giriamo con le nostre macchinine telecomandate radio comandate teleguidate tutto guidato che vuoi tirare erpirata vuoi fare la gara di velocità eccole qua ragazzi di sera lo facciamo un bel serale qui ragazzi eccoci un seguimento notturno ragazzi solo che io con una mano è un po' scomodo devo dare un colpo a 600 euro di macchina per due no solo erpidata è capace di fare queste cose ok ora devo aumentare l'intensità ciò suverà abbiamo fatto il pirato in seguo del mister hobby ma è così le mandiamo ben in storage le batterie mi sono scaricato spostellate potessi che si è riscaldato ragazzi è fatto buio oggi si è volato e si è girato fatto proprio tanto rc ciac dal pirato al mister hobby è tutto a voi una buona serata mi mangiate la pizza stasera oggi è domenica c'è una voglia di pizza me la sono fatta ieri me la rifaccio oggi no oggi patatine fritte con ketchup ragazzi e anche questo weekend abbiamo dato abbiamo proprio dato ci siamo divertiti abbiamo scaricato e niente ci vediamo al nostro prossimo video quindi mi rimettete per il canale mi raccomando mister hobby e del pirata un bacino a tutte le persone che ci vogliono bene ciao ragazzi ciao ragazzi Grazie a tutti